Ho sposato non solo la causa, ho sposato tutte queste donne che ormai seguo da sette anni, siamo alla settima edizione e devo dire nei nostri comunicati spesso scriviamo che l'autismo non contagia, io dico invece che mi ha contagiato parecchio e mi ha contagiato per in quanto è entusiasta di stare in mezzo a queste guerriere, sono camorruse da morire tutte quante ma devo dire che da quando abbiamo iniziato ho tante soddisfazioni, tante cose sono state fatte e tante se ne dovranno fare questa sera siamo ancora pronti e pronte a dare un contributo, un segnale importante a tutta Italia attraverso anche una comunicazione diretta, forte e determinata